Tanto davanti Oliveira e Battistuta, profondità per Oliveira, è andato a vuoto il suo avversario, Oliveira sulla sinistra, punta a Sevastizza, molto bene Oliveira in mezzo ed è gol! Splendida azione, splendido spunto di Oliveira, è molto importante anche sul piano psicologico questo gol segnato da Massimo Orlando. Prima Baldini qualche cosa esternamente, cioè per linee esterne sulle fasce laterali, poi riesce anche a mandare in gol Battistuta, occhi per lui, linea Baldini. Un gol bellissimo. Sì, grande numero di Oliveira in area, ha servito benissimo da Svarts e anche grande altruismo di Oliveira che ha servito una palla perfetta da spingere solo in porto.